E veniamo, carissimi amici e amiche, anche ad un'altra riflessione sul caso di Alice. Ho visto che ci sono, ecco, più perplessità sui social, qualcuno si pone delle domande, perché dobbiamo entrare nell'ottica che per condannare una persona dobbiamo essere, non dico sicuri al 100% perché non esiste questa sicurezza, ma dobbiamo sfrondare, ecco, l'orizzonte dalle nuvole dei tanti dubbi, delle tante contraddizioni, dei tanti perché, non si può andare appresso ai luoghi comuni. Ora, perché la perplessità è aumentata in questi ultimi due giorni? Perché è emersa quella che noi abbiamo detto ieri, la posizione di questo collega, di questo confidente, che ha messo quel famoso post delle fiamme, che l'ha messo, l'ha rimosso proprio quella mattina del 18 novembre. Può essere una casualità, ma veramente è una casualità, non ti porto conto, perché poi c'è il resto, perché poi ci sono i colleghi che lo definiscono un tipo che dopo ciò che è successo era diventato molto schivo, silenzioso, che si sentì male, che svenne all'arrivo dei carabinieri, alla UAM. E per quello che ho letto anche era diventato un po' ossessivo, perché sembra che Alice si fosse confidata con qualche amica dicendo che stava diventando opprimente, per cui cominciava ad avere paura di questa oppressione. Quindi ciò può significare, come può anche non significare nulla, però tutto ciò, insieme ad altre perplessità, ad altre stranezze, fanno in modo di andare con, come dire, maggiore cautela nell'analisi di questo caso. Come pure nell'analisi di questo momento galù, che sembra, cioè, il momento è il principale, sicuramente sospettato, però, ad onore del vero, bisogna anche dire che questa sua fuga all'estero sembra una fuga, diciamo, un po' strana, e dir poco, perché? Perché è fatta non solo dopo otto giorni, forse si dice quando aveva intuito qualcosa, può essere, può essere, ma certamente portando appresso il suo cellulare, quello che ha sempre usato, acceso, quindi con lo stesso numero, la stessa scheda, e usandolo in una maniera normale. Ora, capirete bene che la prima accostezza di uno che si mette in fuga è quello, come minimo, di cambiare numero di cellulare, di cambiare apparecchio cellulare, per fare in modo di non essere rintracciato, certamente uno che mantiene il suo cellulare, la sua scheda, e lo mantiene sempre acceso, e poi va all'estero e comincia a postare anche foto del cantiere dove lavora, certamente, o è totalmente incosciente, o non so come altro definirlo. e quindi noi non possiamo ridurre tutto a dire vabbè, se la procura l'ha indagato, se la procura ha fatto il mandato di cattura, se sta in carcere, allora vuol dire che è così, è lui, per carità, gli indizi ci sono e come, ma non bisogna avere, vedete, questo atteggiamento fideistico, un po' come è accaduto, come sta accadendo per la perizia medico-legale del caso di Liliana De Sinovic, dove qualunque tipo di opposizione, di critica, viene bollato come uno che va contro la scienza, quando la scienza, voglio dire, a volte non è univoca, si presta anche ad interpretazioni, come qui, sicuramente, la procura ha fatto il mandato di cattura per Galul che stava all'estero, ho fuggito all'estero, però ci sono altri indagati ufficiali e credo ce ne siano altri ufficiosi. E allora, c'è l'ipotesi che questo tunisino possa essere anche l'uomo sbagliato, nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, potrebbe essere lui anche il colpevole perfetto, un irregolare, uno che non so nemmeno scrivere in italiano, che ascolta solo i vocali, che si esprime a fatica, in italiano abbiamo sentito qualcosa, e allora delle due luna, Galul o è un killer o dovrebbe essere un predatore sessuale. Un predatore sessuale strano se fosse così, perché un predatore sessuale preda la sua la sua vittima, sceglie la sua vittima e non è che va a perdere due ore per fare questa predazione, ma se fosse un killer allora ci sarebbe un mandante. Ora, io non credo che siamo a questo, stiamo parlando di persone normali, tra virgolette, ma voi pensate che qualcuno sia così inconsciente addirittura da organizzare il killer e poi un killer voglio dire così sprovveduto, non si è mai visto un killer così sprovveduto come potrebbe essere il Galul. Credo che ci sia altro, perché vedete, per quanto riguarda, tornando a quelle due autovetture, si dice, ho letto nei commenti, che via Griffona, da via Griffona, dove è stata incendiata l'auto, facendo 40 km si va verso a prendere l'autostrada, insomma. E a parte che 40 km sono 40 km, quindi è una cosa notevole, non è che dice si taglia di lì due km, 40 km, ma allora i proprietari, i proprietari comunque in tutti i casi, anche se fosse così che andavano a prendere l'autostrada, i proprietari di queste due autovetture avranno saputo, credo, avranno ascoltato tutti questi fatti, queste chiacchiere e si saranno riconosciuti quali conducenti di queste autovetture perché solo queste due auto quella notte tra le 5.10 e le 5.50 andavano da via Mazzalupi a via Grifona per quella zona lì, non è che stavano 100-150 auto, solo queste due auto scure, e allora se non c'entravano niente, se erano due auto che andavano così, non si sa perché, tagliavano per fare 40 km verso l'autostrada, perché fino ad oggi non si sono riconosciuti, e non lo so se qualcuna di queste due auto può far capo a protagonisti di questa vicenda, mi sembra elementare che per non uscire allo scoperto qualcosa non va, perché ad esempio per le Mito Bianche lì la prima è uscito subito allo scoperto, il secondo quel Said è dovuto uscire allo scoperto perché è segnalato dal datore di lavoro, comunque si è saputo per queste due auto scure no fino ad oggi. E allora fa comodo dire che questo Galul sale a bordo si minaccia fa due giri si appasta per un'ora e la uccide. Può essere, non è che scoperto io non escludo, può essere, perché la mente umana è strana quindi ho d'assi pure che ci sia stata una banale discussione e succede. Però succede questa cosa qua e sarebbe anche plausibile se fosse ricondotto nell'ambito di una situazione cosiddetta normale. Mi spiego meglio. Se immaginiamo l'ipotesi di un tunisino come Galul che si introduce in una casa trova una donna ne approfitta gli ruba pure delle cose la uccide e va via. È una dinamica che ahimè a volte succede pure ed è una dinamica plausibile perché quando gli inquirenti arrivano cosa trovano? Trovano una situazione normale in cui una donna intende fare i servizi di casa non vi sono misteri voglio dire e quindi non si può pensare che il tunisino che si è introdotto in casa non c'entra niente perché è stato visto dalle telegamere però non c'entra niente e sono scesi chissà i marziani ecco i marziani a fare del male a questa donna e lui dice no io non ne so niente. Vedete un po' ciò che avvenne nel delitto di Cogne voi vi ricordate nel delitto di Cogne quanto Anna Maria Franzoni uccise il proprio figliolo Samuele ebbene in un raptus evidentemente e cercò di dire fino all'ultimo non sono stato io non ricordo non sono stato io è come se fossero scesi appunto i marziani e invece non c'era altro gli inquirenti esclusero da qualsiasi altra pista di qualsiasi altro genere questo intendo io cioè escludere le altre ipotesi in questo caso qui di Alice le altre ipotesi non si possono escludere perché ce ne sono agliosa agliosa tante tante cose che non tornano tante brevemente c'è ad esempio la presenza di cocaina cosa significa questo non lo sappiamo in famiglia ci dicono che non ne faceva uso ma non ne possiamo essere sicuri che solo c'ha questa cocaina c'è c'era un percorso psicologico in atto fatto da Alice che aveva portato a una profonda crisi familiare questo è venuto fuori con il marito c'è un mondo del lavoro in cui era inserita Alice con 70 uomini e una sola donna ci sono ci sono stati alcuni episodi di molestia nell'ambito di quella di quell'ambiente di lavoro e ci sta un atteggiamento anomalo anche di tutta la UAM e di tutti i colleghi che non hanno fatto condoglianze non hanno dimostrato vicinanza alla famiglia c'è la figura di questo collega confidente che già appunto come abbiamo detto 18 novembre prima ancora che venisse preso il corpo di Alice posta quella frase inquietante sulle vampe di fuoco poi la cancella poi sviene all'arrivo dei carabinieri ed è quello lì che come ci ha detto pure il fratello Matteo prendeva sempre il caffè insieme con Alice l'aspettava portava qualche piccolo pensierino il cioccolatino altre cose e poi forse stava esagerando appunto che Alice lo cominciava a temere cominciava a aver paura di lui altra stranezza ci sa di stranezza anche Marco Marco l'amico dell'aperitivo che sparisce rifiuta di rispondere alle domande sparisce non dà alcuna vicinanza non risponde più a niente a nessuno non è un bel esempio e si trovano pure cancellate tutte le chat con Alice tutte le amicizie con lei ci sta anche di strano un marito che si addormenta senza che precedentemente abbia fatto né una telefonata né un messaggio alla moglie per scarità può essere come pure strano la mattina alle 6 e mezzo una serie di telefonate con un ipotetico assassino che sta lì a rifiutare sul cellulare le telefonate vedete quante cose strane che succedono poi ci sta anche quell'uscita dal lavoro alle 16 e 30 fino alle almeno fino alle 18 in cui Alice si vede con qualcuno si dice un altro ex collega forse si chiama anche lui Mohammed ma non sappiamo ancora non c'è conferma di questo né dove e né sui contenuti di questo incontro avvenuto nel primo pomeriggio ci sta distrando la disattivizzazione la disattivazione scusate del geolocalizzatore alle 3 41 perché in quel momento in quel minuto perché proprio poco dopo la partenza dallo smastro caffè insieme al galul ci sta di strano il ciao marocchino delle 407 poi cancellato da chi perché cancellato insieme alle chat e all'amicizia con Marco ci sta di strano la ricerca delle 450 di poggio rusco cosa c'entra ci viene in mente quando detto da saeed quest'altro giovane sulla mito bianca di quella notte che passava di lì dicendo che era andata da una ragazza e che lui andava a poggio rusco per fare dei lavori e ci stanno le due auto scure ci sta ci sta la stranezza anche del corpo nel portabagagli perché mettere nel portabagagli per dare fuoco alla macchina fa pensare al nascondimento di un cadavere per poi dare fuoco alla macchina successivamente vedete quante cose non sono chiare e allora se tutte queste cose non sono chiare come noi possiamo pensare di dire non c'è bisogno d'altro il colpevole basta non c'è bisogno di discussione allora prima di dare ipoteticamente 30 anni almeno di carcere oler gastolo al galul bisogna pensarci bene perché ci sono troppe zone d'ombra bisogna chiarire prima le zone d'ombra tolti tutti questi dubbi allora il tunesino potrà trascorrere il resto della sua vita dietro le sbase se se lo merita altrimenti mi sembra tutto un paradosso e lui potrebbe essere effettivamente la persona sbagliata al momento sbagliato oltre che ovviamente la povera Alice che è stata quella che purtroppo ha pagato delle conseguenze di una situazione assurda e ricordiamoci che il tribunale della libertà in presenza di tanti indizi quasi non ha potuto scarcerare il galul non fosse altro per il pericolo di fuga perché lui è in Italia che teoricamente non ci potrebbe nemmeno stare perché non ha il permesso di soggiorno quindi come altre centinaia di migliaia di persone che stanno in Italia quindi il pericolo di fuga era era notevole quindi questo è serenamente quello che io voglio farvi notare e voglio condividere con voi che ci sta ci sanno troppi dubbi che devono essere approfonditi bisogna chiarire dopodiché se c'è responsabilità di questo soggetto va benissimo non è che qua siamo a difendere si dice l'uno l'altro si difende non si difende nessuno si analizza si analizza e poi e poi vediamo cosa succede questo è per il momento grazie buona serata e un abbraccio a tutti quanti voi grazie grazie grazie